Buongiorno, buongiorno cari telespettatori di Fano TV, ben alzati e ben ritrovati per il consueto appuntamento del mattino con la carta stampata. Occhio ai giornali, siamo in diretta come sempre per mostrarvi quello che troverete, le notizie principali naturalmente sui quotidiani in edicola quest'oggi. Procediamo però con ordine come sempre, guardiamo il santo del giorno, l'almanaco e poi le previsioni del tempo. Oggi è sabato 10 dicembre, la Chiesa osserva la Beata Vergine Maria di Loreto, il sole è sorto alle 7.30 e tramonterà alle 16.31. Previsioni del tempo, allora il fenomeno più evidente in queste ore che ha girato anche ieri sera e questa mattina chi si appresta ad uscire di casa vedrà la foschia e la nebbia in pianura naturalmente. Quindi attenzione, grossa attenzione a questo fenomeno in accentuazione soprattutto nelle ore serali. Le previsioni per oggi sabato sono queste, il cielo è sereno, poco nuvoloso con presenza di nebbie lungo la fascia costiera, centro settentrionale però in parziale dissolvimento durante le ore più calde della giornata. Nessuna precipitazione anche per domani la pioggia non è data e il cielo però rimane parzialmente nuvoloso o nuvoloso per anche la presenza di nebbie o nubi basse. Precipitazioni anche qui assenti, vedete la simbologia molto chiara delle foschie e delle nebbie, presente anche la stessa cosa lunedì inizio di settimana. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse con qualche addensamento lungo la fascia costiera. I fenomeni naturalmente sono quelli della foschia e della nebbia, le precipitazioni non si escludono. Partiamo dalla pagina di apertura del resto del Carlino, l'inserto che naturalmente parla di Pesaro e provincia. Eccola qua, fotolotizia in taglio centrale. I furbetti del gas sono stati acciuffati, vedete qui nella foto in evidenza quello che propinavano a persone anziane deboli, sole, spesso e volentieri e anche con un'emotività particolare. Gli rifilavano questi marchi ingegni che tutti erano, tranne che dei salvavita, sono soltanto dei semplici rivelatori di gas da pochi euro, 12-13 euro al massimo, che venivano venduti, pensate, a 200-300 euro. Sono stati smascherati, acciuffati, la polizia di Fano ha denunciato tre persone che vendevano appunto questi rivelatori spacciandoli per dei salvavita. E poi riportata la notizia anche qui dell'aeroporto, che si è già dimesso il nuovo amministratore, Giuseppe Belli. E poi troveremo altre notizie, però insomma questa era la principale. Perché? Perché riuscivano a fare così leva, così breccia nelle persone anziane, come vi dicevo, tutte oltre i 75 anni, quindi ben studiati, ben mirati i loro obiettivi, le loro vittime, perché facevano leva sull'emotività. Quindi anche sfruttando purtroppo in maniera veramente squallida gli avvenimenti di cronaca, come quello di Urbino, che purtroppo è costato la morte di due persone e quindi, così, prospettando questa tragica evenienza, queste persone facevano breccia sulle persone deboli e gli spillavano veramente tanti, tanti soldi. Vendevano dai 250 ai 350 euro queste macchinettine di poche decine di euro. e insomma sono riusciti addirittura anche con l'utilizzo di un bancomat portatile a spillare oltre 30.000 euro e insomma anche con metodi, ci hanno detto ieri nella conferenza stampa, in questura con metodi anche abbastanza pressanti e insomma quasi violenti. Tre, terreno fertile per le gang, dopo i due morti per il monossido ad Urbino, quindi arrivavano nelle città sentendo oltre che l'odore del gas e l'odore dei soldi e quindi insomma nell'articolo tutti i particolari di questa vicenda. Cambiamo argomento, andiamo sempre nelle pagine del resto del Carlino, dove si parla di economia e di lavoro e di banche, di banche del territorio. BCC Fano, che conosciamo tutti molto bene, bilancio in salute e soci triplicati. Guardiamo ai giovani, non sono il futuro. Come sempre hanno fatto il presidente Romualdo Rondina e il direttore Giacomo Falcioni della BCC di Fano con tutte le iniziative sempre mirate anche al sostegno dei giovani per incentivare le forme sia di cooperazione che anche di risparmio. A Fano appunto l'altra notizia che compare di spalla nella pagina di apertura, l'aeroporto. L'aeroporto di Fano non ha pace, non se ne viene fuori. Fano ha un fortuna e non riesce a decollare. Si dimette a pochissimi mesi dalla sua nomina l'amministratore unico Belli. È il terzo flop ai vertici della società che gestisce l'impianto. Lui dice che cosa è successo, l'accusa è che mi hanno lasciato solo. Il Movimento 5 Stelle di Fano va all'attacco, un fallimento, dicono, dietro l'altro. E vedete nella foto un bel momento, una bella pagina di questo aeroporto in un air show di qualche tempo fa. Vedete tanta gente, l'aeroporto è una zona viva di Fano. Sono tante le iniziative che hanno sempre proposto, non solo gli operatori che ci lavorano, ma anche altre parti della società. È una parte del tessuto sociale della città. E quindi lo si anima anche con i dinosauri, come è successo qualche tempo fa nella zona antistante. Si è parlato di turismo in un convegno, appuntamenti per rilanciare questo settore. Il primo si terrà fra poco con un esperto a livello mondiale di marketing mirato al turismo. Avanti tutta, Teatro Romano sarà di proprietà comunale, quindi avremo un'altra perla che incastonerà un bel diamante per mostrare tutta la romanità di Fano. La firma è vicina e entro l'anno ci sarà la permuta per l'area, accordo con i privati. E qui sarà potenziata l'offerta turistica mirata a questa parte della storia di Fano. Archiviato il resto del Carlino, andiamo a vedere l'altra testata che noi vi mostriamo sempre ogni mattino. Il Corriere Adriatico, vi faccio vedere la pagina di apertura, che è uguale un po' per tutti. Questa è quella di Pesaro. Qui la fotonotizia centrale è diversa, si parla di movimenti in ambito politico. C'è un dirigente del comune di Fano che va nella squadra di Ceriscioli. Eccola qui, affiancherà Costa a lei i dossier amministrativi più delicati. Ceriscioli sfila la Giraldi al comune di Pesaro, salva il nuovo capo di gabinetto. E anche qui, in testa di pagina, la notizia di cronaca. Spillavano denaro agli anziani, apparecchi contro le fughe di gas venduti a 20 volte tanto il loro prezzo. Però vi faccio vedere prima le pagine che riguardano Pesaro, del Corriere Adriatico. Vandali in azione, colpiscono il trono di Babbo Natale, già sfregiato in centro. La poltrona dove lui doveva accogliere i bambini e le sue letterine. La stupidità non ha mai fine. Eccola qui la notizia di apertura. Ricci perde anche la segretaria generale. Giraldi in regione, transizione a Galdenzi. Da Goffi a Capalbo. Non è la prima volta che Ceriscioli nomina dirigenti in disaccordo con il sindaco, con il sindaco Ricci. Si è staccato un pezzo del davanzale. Siamo sempre a Pesaro, in centro della casa di Rossini. L'area è stata delimitata. Dopo due ore blitz di Ricci, tolte le transenne, il problema ora è risolto. Riapriamo subito, quindi per non creare ulteriori problemi. Si parla anche di lavori, di lavori fatti a una scuola. Lavori però fatti male. Quindi il comune sarà risarcito fine della battaglia legale sull'edificio a Borgo Santa Maria. La ditta pagherà 500 mila euro. Andiamo a vedere anche qui un po' di cronaca. Al porto c'è stata una microcar contro il cantiere navale. Vedete, la botta non è stata da poco. Anche il 118, la polizia stradale, sullo luogo per soccorrere gli occupanti del mezzo. Si parla anche delle fusioni, insomma delle fusioni, soprattutto una che riguarda due comune qui nel nostro territorio, di cui vi abbiamo dato ampia cronaca e anche nel nostro telegiornale, soprattutto intervistando i diretti protagonisti. Colli al Metauro, ricorso Lampo. Lo avevano annunciato in diretta i nostri microfoni, il comitato del no e tutti quelli che si sono opposti a questa fusione a Monte Maggiore. Non si placano appunto le polemiche per la fusione a tre, malgrado il no di Monte Maggiore. Le opposizioni andranno al Tar, ma il nuovo comune parte il primo di gennaio. Il primo di gennaio, quindi, certificati e anagrafe saranno intestati con la nuova dicitura Colli al Metauro. Apriamo le pagine di Fano del Corriere Adriatico. Si parla di sanità, sanità con la vicenda legata alla convocazione dell'area vasta, i sindaci da Gambini. Smentito, ora agiremo in regione. Parla seri che non si arrende sulla localizzazione. Il sito deve essere deciso dai sindaci. Ferma presa di posizione, da sempre, lui lo dice, insomma, porta avanti questa sua idea in maniera ferma e decisa. Eccole qua l'articolo, naturalmente, che riguarda, e ha comune un po' i due quotidiani, i falsi addetti al gas. Si presentavano tutti in regola, con le pettorine, con gli identificatori. Addirittura mettevano nei condomini, nell'area condominiale comune, un cartello dove annunciavano la loro visita. Insomma, veramente sembrava qualcosa di tutto regolare, in realtà nulla così. Fuga di gas, scoperta la truffa perfetta. Falsi tecnici vendevano apparecchi in sicurezza, anziani agganciati per la paura provocata dalla morte della coppia di Urbino per il monossido di carbonio. I vertici della polizia ci hanno chiesto, a noi della stampa, a divulgare anche questo messaggio. Tutti coloro, e quindi lo ripetiamo questa mattina, tutti coloro che hanno avuto contatti con queste persone o addirittura hanno acquistato queste apparecchiature, buona fede naturalmente, sono pregate di contattare questura o commissariato di Fano, proprio per segnalare l'evenienza. Perché l'indagine è ancora aperta, si sta verificando soprattutto il bacino nel quale si sono mossi questi personaggi. Quindi insomma questa è la richiesta che ci ha fatto il questore Lauriola ieri in conferenza stampa e quindi questa noi ve la riproponiamo. Colpo di scena, colpo di scena si parla di aeroporto nel Corriere Adriatico, colpo di scena a me naturalmente parliamo di aeroporto. Il comandante Giuseppe Belli, ex pilota militare dell'All'Italia, se ne va senza i servizi, la Fly Eagle naturalmente rischia la paralisi, ma il sindaco non demorde. Ho un altro nome, quindi tirerà fuori un nome presto per dirigere l'aeroporto. Andiamo nelle pagine che parlano anche dell'interno, della Val Cesano. Il Corriere Adriatico ha molte pagine dedicate a tante aree della nostra regione. Ciocco-Visciola, siamo a Pergola, chi non piace il cioccolato alzi a 9 su 10 piace il cioccolato e probabilmente il decimo dice anche una bugia. Abbinata a un'altra eccellenza del territorio, le visciole, insomma l'abbinamento è veramente di quelli da lecarsi le dita. Abbraccio al sindaco del Sisma, naturalmente moltissime sono le iniziative che tutti gli anni si svolgevano naturalmente in un clima di normalità. Quest'anno sono tutte all'insegna della solidarietà. Donati a Falcucci, 1000 euro, raccolti da Croce Rossa, Protezione Civile, ospite naturalmente anche l'assessore di Norcia. Qui vedete nella foto il momento in cui i due sindaci si sono incontrati e la donazione dell'assegno. È avvenuto anche per Sapori e Romi d'autunno, insomma tutte le grosse manifestazioni a livello locale sono improntate all'insegna della solidarietà e quindi insomma questo a sostenere ancora una volta quanto è possibile le popolazioni che hanno sofferto veramente tanto per il sisma. Andiamo in un'altra pagina che riguarda naturalmente San Lorenzo in campo che fa il BIS, Comuni Ricicloni, dell'Onti concede il BIS dopo la bandiera verde il Comune premiato per aver ottenuto il 76,44% di raccolta differenziata. Insomma ecco vedete qui un orgoglioso sindaco dell'Onti che mostra il premio di Lega Ambiente che ha coniato questa fortunata iniziativa dei Comuni Ricicloni in concomitanza anche proprio con il periodo invernale sotto legge naturalmente del Ministero dell'Ambiente insomma ogni anno appunto assegna questi premi per i Comuni che utilizzano alte fasce di rifiuti riciclati. Le ultime pagine che vi propongono sono quelle che riguardano Senigallia anche qui si parla di Cronaca aziende nel mirino ma è doppio flop fuga con la cassa dentro c'erano solo gli spiccioli al Cesano il bottino è stato di appena 15 euro invece a Borgo Passera i ladri fuggiti addirittura a mani vuote quindi non sono stati premiati nella loro azione truffaldina quindi se ne sono andati con le trombe in tasca come si dice così. Allora Natale, Natale è il momento di tante iniziative ne abbiamo viste tante e a Senigallia per il Natale sfilano i Babbi Natale sul fiume vedete i Babbi Natale che sfilano in costume sul sup il sup che serve questa tavola stand up paddle che si muove sull'acqua attraverso anche un remo e i Babbi Natale naturalmente salutano vedete in questa foto tutti quelli che sono assiepati lungo il canale con le loro pagaie insomma un bel momento di gioia anche per i bambini e appunto questo show è tutto per voi videogiochi, distribuzione di caramelle e in programma anche uno spettacolo mozzafiato di parkour se non sapete cos'è il parkour andate sul web, su YouTube dicitate parkour e vedrete dei funamboli che saltano da un grattacielo da un palazzo, fanno evoluzioni e quindi molto spettacolari non da imitare però insomma sono spettacolari quindi lo spettacolo è assicurato tra Babbi Natale in acqua e parkour bene, ultima notizia, ultima pagina grazie per essere stati insieme a noi in questa rassegna stampa del sabato mattina un weekend davanti a noi un fine settimana con tante iniziative godetevelo il tempo dovrebbe essere buono e quindi insomma occhio ai giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7.30 buon fine settimana a tutti voi arrivederci, alle prossime per il prossimo episodio Autore dei sorrisi